Nuovi varchi in ingresso ed in uscita per migliorare il controllo delle ZTL ad Arezzo. Questa è la decisione dell'amministrazione comunale Aretina. La ZTL è oggetto di monitoraggio e di particolare attenzione anche perché è l'area più pedonalizzata, dove ci insistono più attività commerciali che in qualche modo stiamo cercando di riqualificare e di rilanciare in senso turistico. E quindi vorremmo cercare di controllare nel modo migliore anche l'accesso e l'uscita dei veicoli. Ad oggi si controlla soltanto l'ingresso in ZTL, ma non era possibile monitorare e capire quanto le macchine rimanevano dentro e se effettivamente rispettavano gli orari previsti dal regolamento. Da domani sarà possibile monitorare anche l'uscita perché installeremo le telecamere anche in uscita e quindi chiunque entra sappia che purtroppo sarà controllato e verrà verificato l'utilizzo corretto dell'autorizzazione che gli viene rilasciata. L'ampliamento del sistema di controllo elettronico dei barchi avrà un importo complessivo di circa 258 mila euro. È una questione di sicurezza ma è una questione di protezione della ZTL. Per noi la ZTL è il significato di una zona nella quale per una parte significativa della giornata non transitano auto che non abbiano il diritto di farlo, cioè quelle dei non residenti. Allora si assisteva a un abuso sistematico in questo caso, si passava nel momento in cui era possibile passare, si parcheggia la macchina e ci se ne va quando si vuole perché l'uscita non era controllata. Questo controllo sull'uscita farà sì che il tempo che le auto che non hanno il diritto a stare in ZTL si limiti al periodo sostanzialmente deputato a ciò.